Ehi, mi accarezza, mi fa le fusa, questo è il mio gattino, vuole la scatoletta di carne e continua ad accarezzarmi. E' vero? Ehi, ora ti do la mangiare, dai. Atterezza, dai, vero, stronzetto. Ehi, che è? Che è? Non hai mangiato niente oggi? Non hai ammazzato nessun topo, nessuna lucertola, nessun serpe? Ehi, non darmi varsi, stronzo. Ehi, arriva, arriva. Ehi, vai, su va, arriva, vai.